Grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri per il dibattito, però sentire il consigliere Casini che è uscita dall'aula ripetere una frase cara al Ministro della Propaganda del Terzo Reich in questa sala, ripetere cento volte una bugia che poi diviene realtà sull'ospedale di San Benedetto mi suona male. Per la stima che io ho nei confronti del consigliere Casini, per la competenza che ha il consigliere Casini e proprio per quella stima che ho nei confronti di questo esponente del Partito Democratico e anche per le sue competenze dovrebbe comprendere qual è la strategia della regione Marche nel sistemare un po' di danni di quella giunta regionale di cui purtroppo il consigliere Casini era Vice Presidente. Quali sono questi danni? Nel 2019 la giunta Ceriscioli, Presidente della giunta regionale delle Marche proveniente da Pesaro, ma anche Assessore alla Sanità, ma anche Presidente Acquaroli, Assessore all'edilizia sanitaria ospedaliera, aveva congegnato un meccanismo per nascondere i fallimenti della mancata programmazione sanitaria. Nuovi manuali di accreditamento per le strutture ospedaliere e guarda caso, quei manuali di accreditamento prevedevano dei criteri di accreditamento che quasi nessuna struttura sanitaria ospedaliera della nostra regione era e aveva nelle sue caratteristiche. che cosa significava? Non avevamo programmato la preparazione e la formazione dei medici, non avevamo individuato risorse economiche per l'adeguamento delle strutture sanitarie, per cui la soluzione migliore era chiudere tutte le strutture sanitarie ospedaliere del terremoto del territorio, ad eccezione di cosa? Del buon lavoro fatto dal Consigliere Cesetti su Fermo, Assessore al bilancio se non sbaglio, con lo stanziamento di risorse cospicue per la costruzione del nuovo ospedale e il mezzo lavoro fatto da Ceriscioli che invece di spendere 200-250 milioni sul nuovo ospedale di Pesaro si era inventato uno strano strumento finanziario o project financing per spendere 250 milioni e poi pagare canoni annuali per 30 anni che portavano il costo dell'ospedale di Pesaro da 250 milioni a 1 miliardo e 50 milioni, non vi dico quello che sarebbe successo con i nuovi tassi stabiliti dall'Europa contro per combattere l'inflazione che era una variabile che era all'interno del project per cui quei 250 milioni ci sarebbero venuti a costare circa un miliardo e mezzo, è chiaro che poi non avremmo avuto più risorse nel territorio per magari realizzare il nuovo ospedale di Macerata, vorrei far sapere a qualcuno che dopo l'ospedale di Pesaro su indicazione e indirizzo del Presidente Acquaroli abbiamo e stiamo bandendo la gara per l'ospedale di Macerata, qualcuno, scusi Presidente, scusi no mi scusi io ho sentito, non so da chi, probabilmente da una giacca gialla, la parola bugiardo, siccome io non rivolgo alcun epiteto Presidente del Consiglio a nessuno all'interno di questo Consiglio regionale perché ho grande rispetto per la democrazia, anche quando la democrazia sbaglia ad eleggere, ho visto tanti sindaci che sono stati eletti e forse era meglio che non fossero sindaci, ho visto tanti consiglieri regionali che sono stati eletti e forse si potevano fare scelte migliori, ma non mi permetto di dare del bugiardo o usare altre epitoti nei confronti di nessuno, il Partito Democratico o parte del Partito Democratico è abituato a questo tipo di democrazia, io no Presidente e pretendo che sia nei miei confronti, che nei confronti di qualsiasi altro collega di giunta, che nei confronti di qualsiasi altro consigliere regionale all'interno di questa assise non sia permesso e non è la prima volta l'utilizzo di questi termini. Grazie Presidente. Detto questo, per i colleghi e per il consigliere Casini che provengono dal territorio della provincia di Ascoli Piceno, quindi due grandi città, Ascoli Piceno e San Benedetto, sanno benissimo quello che abbiamo indicato nel nostro programma elettorale e nel masterplan dell'edilizia sanitaria ospedaliera. Ospedale di Pesaro, perché c'era una procedura che andava modificata per evitare gravissimi danni al bilancio della regione Marche e il bilancio della sanità di questa regione, subito dopo Ospedale di Macerata e appena bandita la gara per l'ospedale di Macerata, gara per la progettazione dell'ospedale di San Benedetto del Tronto e realizzazione della struttura. Prego di fare silenzio. Vede Presidente Acquaroli, nella vita e nella società esistono uomini di parole, io anche in questo Consiglio regionale ne ho sentite tante, e uomini di parola. E noi quella parola che abbiamo speso nei confronti degli elettori la stiamo rispettando e la stiamo rispettando con un cronoprogramma certo e definito. Così è, verificando i piani redatti da questa giunta regionale, cancellazione degli ospedali unici, no alle operazioni di finanza sulla sanità, tanto care anche al Movimento 5 Stelle che oggi vedo seduto tra i banchi dell'opposizione che dovrebbe essere più propriamente al fianco di queste battaglie, care al Movimento 5 Stelle e ai propri elettori di questa maggioranza e che questa maggioranza sta conducendo sulla sanità, sulla legge urbanistica, che va di pari passo col piano regionale delle infrastrutture Marche 2032, perché disegniamo un futuro a questo territorio, quel futuro che qualcuno voleva negare in quella opposizione e con tempo era maggioranza, che non dimentichiamo nel 2016 fece declassare la regione Marche da regione sviluppata a regione in transizione ad un passo dal sottosviluppo e allora noi stiamo rendendo irreversibili alcuni procedimenti e alcune realizzazioni nell'ambito del piano sociosanitario redatto dal collega Filippo Saltamartini. È per questo che ci siamo di comune accordo suddivisi delle deleghe per non compiere lo stesso errore compiuto dalla giunta precedente che ha voluto un unicum nella figura del Presidente, già Presidente della regione Ceriscioli, che ha portato le Marche da un punto di vista sanitario sull'orlo del baratro. E allora mi permetta una precisazione l'amico collega Luca Cerfilippi. Non abbiamo affrontato questa discussione otto mesi fa. Noi l'abbiamo affrontata oltre trenta mesi fa, nel settembre 2020, quando il programma che si sta realizzando, grazie al coraggio dei consiglieri regionali di questa maggioranza, grazie al coraggio del Presidente Francesco Acquaroli e grazie al coraggio dei colleghi componenti della giunta regionale, distanziarono per oltre dieci punti i nostri avversari che avevano fallito proprio nel tema più grave che può affrontare una comunità, quello sanitario. E noi sul tema della sanità, in modo particolare grazie al grande impegno del Presidente Acquaroli e al fronte del collega Filippo Saltamartini, a cui tutti stiamo dando una mano, ciascuno per la propria competenza e per la propria delega, stiamo correndo ai ripari per i gravi, gravissimi danni, dalle liste d'attesa sulle quali qualcuno vorrebbe incolpare questa giunta regionale, sulla mancanza dei medici sulla quale qualcuno vorrebbe incolpare questa giunta regionale, su quelli che qualcuno banalizza come contenitori. Pensate, con i vostri manuali di accreditamento nessuno di quei contenitori sarebbe accreditabile, non potremmo erogare nemmeno una prestazione sanitaria ai nostri cittadini marchigiani. E allora per chi dice, come il Consigliere Biancani che ho alle spalle, che un assessore o la giunta va in giro nei vari territori della nostra regione a raccontare che costruiremo nuove strutture che nessuno mai vedrà, dico che forse era distratto perché proprio nell'ultima giunta regionale abbiamo approvato l'aggiornamento del piano trennale delle opere pubbliche, inserendo altre 4 nuove strutture per le quali andremo a bandire la gara tra pochi giorni. Ne possiamo citare alcune, Urbino, Fano in provincia di Pesaro Urbino, Cagli, la ristrutturazione di Pergola, Senigallia, Civitanova Marche, cuberanno in questo piano 108 milioni ma per un totale complessivo di 150 milioni che portano il totale delle risorse di agi disponibili per l'edilizia sanitaria e ospedaliera della nostra regione ad 800 milioni di Euro di interventi. Questa è la concretezza del Presidente Acquaroli, questa è la politica dei fatti del Presidente Acquaroli che va a correggere anche i gravissimi errori, i gravissimi ritardi, ne ho sentito parlare anche oggi ad esempio sull'IRCA, ad esempio sul Salesi perché erano state impostate male le gare, perché erano state non previste tutte le potenzialità delle nuove strutture da chi aveva bandito quelle gare precedentemente e non era sicuramente l'assessore Filippo Saltamartini ma era il Presidente Ceriscioli che conservava in se stesso e la maggioranza del centro-sinistra gliel'aveva consentito anche la delega della Sanità.